ben tornati all'ennesima puntata delle fritte ciao marco ciao pietro eccoci qua ciao a tutti ben trovati la puntata di questa settimana poeticamente e sintitola come era verde la mia valle sottotitolo non è tutto verde quello che luccica e il titolo vi farà immediatamente e capire che oggi parleremo di ambiente io e marco siamo assolutamente contenti e vogliosi di parlare di questa cosa perché per noi l'ambientalismo rimane e la situazione ecologica in generale rimane una delle cose più importanti che stiamo affrontando come società nel senso più globale del termine e partiamo con un piccolo incipit ricordando che il 2020 è stato l'anno insieme al 2016 più caldo da quando si misurano le temperature nel 1870 e qualcosa e quindi questo ci riporta la questione ambientale al fatto che nonostante la pandemia dove le emissioni sono diminuite addirittura del 7 per cento poi neanche tanto del 7 per cento nonostante questo era tutto chiuso a contrarre di quello che dicevo non era tutto chiuso non era tutto chiuso e purtroppo la temperatura non accenna a stabilizzarsi diciamo si avvicina molto a questo limite di 1,5 gradi o due gradi che erano riportati nel sia nel protocollo di chioto che negli accordi di parigi dove dopo questa soglia probabilmente non riusciremo più a tornare indietro secondo secondo gli scienziati quindi ricordato questo ricordiamo anche che i comportamenti individuali sono importanti andare a piedi andare in bici la macchina sicuramente hanno un impatto positivo su di noi sull'ambiente non c'è dubbio ma in una situazione del genere sono ugualmente importanti gli interventi strutturali che si devono fare nel campo della comunicazione nel campo dell'energia nel campo dei trasporti perché la situazione non può essere curata con un cerotto come si dice sempre ma a questo punto va fatta st'operazione a cuore aperto e va risistemato un po un po tutta tutta la situazione è il modello di sviluppo dei nostri degli ultimi 40 anni 50 anni sempre di più non è compatibile l'abbiamo detto più volte non possiamo che purtroppo ripeterlo in questa situazione negli ultimi l'ultimo anno gli ultimi due anni si è vista che visto l'importanza anche nel mondo del business del mondo delle istituzioni la questione ambientale è venuta fuori diverse volte no la commissione europea la questione del new green deal però adesso marco ti chiedo a te perché io ho l'impressione che molte di queste cose sono un po un greenwashing un lavaggio verde così come il titolo della trasmissione e si cerca di arricchire con belle parole delle cose che poi in termini sostanziali non è che diano che diano grande grande aiuto al pianeta terra tu che ne pensi tecce diciamo che adesso il nuovo governo draghi ha messo con forza la questione ambientale e al centro del suo del suo discorso ora bisognerà riempire questa che per ora inevitabilmente ancora una scatola vuota no sapete c'è stata tutte grandi discussioni ad esempio sul fatto di aver il ministero della transizione ecologica che è un passaggio da un punto di vista anche burocratico importante e ora occorrerà vedere intanto perché è stato nominato un tecnico un esperto roberto cingolani che però è un esperto di innovazione tecnologica non è un ambientalista il modello di questo nuovo ministero è il modello francese perché in francia per primi hanno fatto questa hanno accorpato una serie di competenze dando un rilievo sulla carta molto importante alla tematica però nella realtà dei fatti concretamente e ci sono stati ben quattro ministri negli ultimi anni che hanno abbandonato dicendo sì vabbè ma mi avete messo qui ma son pupazzo non c'è niente da fare non riusciamo a fare niente quindi insomma bisognerà vedere chiaramente come tu dicevi anche nel mondo dell'imprenditoria del business la tematica ambientale è presente ed è importante ci sono delle aziende che stanno facendo degli sforzi enormi di riconversione ambientale del ciclo produttivo in più il recovery i plan i soldi che arriveranno dall'europa hanno la tematica ambientale come una delle tematiche centrali quindi sicuramente qualche cosa dovranno fare per prendere questi finanziamenti un minimo di paura però andiamo a vedere e quando tu fai questo tipo di discorso ad esempio una cosa che io ho trovato molto interessante del del discorso di draghi al senato quando ha parlato del turismo e ha parlato di un turismo però che deve essere differente che deve essere compatibile con l'ambiente e non è facciamo i soldi col turismo quindi costruiamo facciamo turismo di massa a le crociere che entrano dentro venezia fino a dentro san marco è poi però se al ministro il ministro del turismo è un leghista quindi con una logica politica totalmente sviluppista quantitativa e il ministro dello sviluppo economico è un altro leghista giorgetti allora non so se poi alla fine non conteranno niente perché quello che contano saranno i cosiddetti ministri tecnici e però non so quanto sia accessibile questo nei rapporti politici perché come spiegavamo l'altra volta tu puoi fare il governo tecnico ma poi i voti devi prendere in parlamento e votano i parlamentari che sono dei partiti no i tecnici questo ci lascia un po perplessi vedremo è uno sforzo che si annuncia importante e l'innovazione tecnologica sarà fondamentale anche se per esempio quando si parla di l'innovazione tecnologica internet la comunicazione si dimentica che è anche queste forme di sviluppo producono o impatto ambientale cioè noi siamo abituati io faccio l'archivista no spesso si dice alla nuove archivi dematerializzati e perché i documenti non sono più di carta ma non è proprio vero perché ci sono i server ci sono i centri data center consumo di energia enorme ogni volta che decidiamo bene mi guardo un bel filmetto in streaming consumo una cifra d'energia quindi le cose sono abbastanza complesse sì e come diciamo sempre staremo all'ascolto per vedere se poi soprattutto nel caso italiano mai nel caso europeo se saranno più tav e ponti sullo stretto o più infrastrutture green che consentiranno uno sviluppo migliore nel lungo periodo marco però c'è un punto che poco fa avevamo sottolineato che è quello del che non si può distinguere discernere la questione ambientale dalla questione sociale perché l'inquinamento che è una di quelle cose la questione ambientale di quelle cose più ingiuste socialmente perché viene prodotto dai paesi ricchi che stanno bene e chi ne paga le conseguenze sono le persone che stanno peggio nei paesi in via di sviluppo nei paesi sottosviluppati e quindi è proprio quella cosa più ingiusta in assoluto da questo punto di vista però abbiamo visto che negli stati uniti che non te l'aspetti da questo punto di vista esatto fuori una cosa molto interessante che il nuovo presidente biden pare abbia approvato uno strumento che si chiama che si chiama giustizia 40 che significa che tutti i provvedimenti e che riguardano l'ambiente di miglioramento delle situazioni e per contenere i danni ambientali devono avere un 40 per cento degli degli investimenti che vanno a favore della popolazione più povera concretamente significa alloggi migliori con minor dispersione ma gli alloggi popolari e no gli alloggi con minor dispersione di calore e con una con la creazione la produzione di energia naturale e non grazie al carbone e e queste altre cose insomma questo clausola sembra molto interessante ora pure qua l'ha fatta ha fatto la clausola cercheremo di informarci perché sui giornali italiani non se ne parla cercheremo seguiremo con attenzione questa cosa per vedere se per esempio nella ricca e capitalista america questo segna un cambio di strategia veramente importante perfetto marco allora chiudiamo così è una puntata intermedia dove abbiamo dato qualche informazione che non passa di come al solito sulla stampa ma che consente di aprire il ragionamento sulla questione ambientale su molti fronti quindi noi ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato su questo video guardatevi sia i nostri video vecchi e sia quelli nuovi ringraziamo chi ci ascolta il lunedì pomeriggio su radio mir e vi diamo appuntamento alla prossima settimana ciao ciao